Salutecenter.com, lo shop online con vasta scelta di ausili mobility e elettrici per anziani e disabili. Scooter, carrozzine, saliscale, poltrone, reti, letti e materassi. Prezzi eccezionali, promozioni e qualità garantita. Se vuoi vedere e toccare con mano, siamo in Zai via Edison 12, Verona. Numero verde 898 46 55. Salutecenter.com